Devo dire che è un'esperienza un po' diversa anche per noi di AIFA perché noi siamo abituati a parlare in contesti di persone specialistiche, sponsor, autorità regolatorie e con convegni e congressi a livello internazionale ma sempre molto tecnici. Questa invece è un'opportunità che ci avvicina ai pazienti che poi sono i protagonisti della ricerca, sono proprio quelli che partecipano alla ricerca e saranno i destinatari dei farmaci per i quali si fa ricerca clinica. L'importanza di un paziente consapevole è adesso in questi ultimi anni sempre più urgente. Il paziente era con un ruolo subordinato nel passato, adesso sia a livello FDA che a livello EMA si sta spingendo per avere il paziente con un ruolo partecipativo, tant'è vero che in tutti i contesti internazionali non si parla più di paziente ma di partecipante. Il ruolo del paziente quindi è importante nei comitati etici, è importante proprio per fare domande allo sperimentatore, per fare domande a tutti i protagonisti della sperimentazione clinica in modo da avere una partecipazione che sia consapevole. Quindi non solo il consenso informato che è il punto in cui il paziente può chiedere informazioni ma dobbiamo formare persone che siano consapevoli di quello che si fa in ricerca clinica.